buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra intervista della call for craft oggi è il piacere di avere chiara caramelli ciao chiara buongiorno e benvenuta ciao buongiorno allora chiara tu ci porti nel mondo di zoom bags e però io vorrei cominciare un po come nostro uso dalla tua storia perché quando si parla di artigianato è la persona che poi fa il prodotto e la sua storia è quella che poi è ciò che il percorso che accompagna l'artigiana in questo caso nella scoperta e nella creazione di quelli che sono pezzi d'arte prodotti ispirazioni per aiutare le persone a vivere una vita più interessante più più ricca di bellezza e di cose particolari quindi raccontaci tu da dove vieni e poi cosa ti ha portato al progetto di zoom bags sì allora io sono designer sono di firenze mi sono diplomata all'isia di firenze quindi una scuola di industrial design ormai parecchi anni fa in questa scuola oggi insegno insegno ingegnerizzazione di prodotto e diciamo la mia esperienza nasce appunto tanti anni fa nel prodotto design e successivamente alla scuola agli studi universitari sono entrata in uno studio di design e in seguito sono entrata in un marchio di importante insomma in italia di borse e pelletteria mandarina dac nel quale mi sono specializzata su proprio la progettazione di borse da ufficio e di valigeria successivamente a questo sono uscita dall'azienda dopo cinque sei anni e ho iniziato la mia attività di consulente e in seguito con vari brand internazionali sempre nel settore in seguito in seguito poi ho trovato diciamo la possibilità di diventare artigiano perché mi è stata richiesta anche la produzione in italia quindi questo è stato un po il gancio e mi ha dato modo di iniziare a seguire so oltre che il design anche lo sviluppo del prodotto quindi hai un po chiuso il cerchio dalla parte appunto di design visionaria a incominciare a sporcarsi le mani diciamo rispetto ecco e questo percorso c'è nel momento in cui hai incominciato a lavorare sull'artigianato cosa è stato che ti ha spinto qual è la tua la tua visione la tua guida in questo senso che poi ti ha accompagnato verso il percorso di Zumba X allora sempre chiaramente l'attenzione ai bisogni delle persone un po la mentalità del designer è quella no cercare di risolvere dei problemi con delle soluzioni che possono essere appunto proposte via via secondo i prodotti quindi diciamo l'obiettivo è sempre stato un po questo oltre che diciamo nel mio nel mio stile di vita è sempre stato importante l'aspetto della sostenibilità quindi non solo materiali riciclati ma insomma cercare di utilizzare più possibile le cose quindi insomma l'orientamento era molto molto questo proprio anche a livello personale quindi un grosso studio su quelle che sono le materie prime e poi molto immagino su design quindi la funzionalità anche dell'oggetto quindi esatto questo è un percorso di interazione col cliente cioè nel senso non c'è solo la la personale visione di cose comodo ma anche soprattutto immagino nel mondo dell'artigianato quando appunto inizia a produrre poi vedendo l'oggetto e facendolo vivere alle persone quindi avrai immagini feedback dei tuoi clienti delle persone con cui ti rapporti questo è il il modo in cui la tua fantasia e la tua comprensione possono trovare anche nuove sponde ecco sì certo sicuramente il feedback delle persone è sempre importante io avendo lavorato molto nel settore avevo avuto vari feedback anche prima no quindi alcuni alcune problematiche diciamo le avevo fatte mie in qualche modo e ho cercato delle soluzioni che fossero che fossero riproducibili e che potessero risolvere questi problemi individuati eh certamente la difficoltà maggiore oggi è è proprio quella di eh di cercare di fare un prodotto di qualità eh in Italia dove magari e di essere allo stesso tempo competitivi perché non è facile eh in questo mercato globalizzato mantenere come dire uno standard elevato di qualità pur avendo eh cioè in un mondo dove magari c'è un'invasione di prodotti no dove che arrivano da basso costo e quindi il problema è la la competizione di costo sì eh diciamo soprattutto nel settore della valigeria dove ora mi sono più orientata eh quasi tutti i marchi producono i fariste quindi la difficoltà maggiore è stata questa eh quella di fare un prodotto diciamo ancora accessibile che non sia di lusso eh mantenendo la produzione italiana e questo è stato fatto grazie alla soluzione di eh diciamo all'individuazione di soluzioni sostenibili a livello di confezionamento di assemblaggio della valigia. Ecco raccontaci questo è il progetto Zoom Bags. Esatto Zoom Bags nasce perché appunto io essendomi specializzata molto eh un po' nella parte tecnica no del fashion quindi diciamo la valigeria che è un che è un po' a metà tra il fashion e il design eh mi sono diciamo in seguito a studi avevo fatto così a ricerche eh ho individuato un problema principale che era quello di ridurre il volume della delle valigie quando non si utilizzavano eh quindi in seguito a questo ho fatto dei brevetti uno di un brevetto invenzione un modello di utilità cercando di risolvere in due progetti distinti eh questa questo problema la riduzione di ingombro in realtà il primo prodotto che è stato realizzato perché poi c'è stato il covid che mi ha bloccato per un pezzetto quindi il primo prodotto è stato fatto in Italia ed è pop up che è questo troll in gomma eh è un troll che eh ricicla eh direttamente dal produttore di suole da scarpe il materiale di scarto quindi il sessantadue per cento del materiale di scarto del produttore viene riciclato quindi preconsumo viene riciclato e in questo nuovo materiale certificato con il quale io realizzo i gusci di queste di questa valigia nuova infrangibile ovviamente perché è fatta in gomma chiaro in più abbiamo aggiunto a questo le ruote che si possono staccare in caso in caso di rottura le fodere grazie guarda a nome di tutti i viaggitori grazie e c'hai le valigie con le rotelline mamma mia cioè che devi ricomprare una valigia perché c'è una rotellina rotta è una roba impossibile cioè zero sostenibilità esatto quindi diciamo l'obiettivo è stato quello di allungare la vita del prodotto cercando di fare una manutenzione semplice un po' alla portata di tutti quindi in autonomia se si rompesse una ruota si può ordinare la ruota di ricambio e sostituirla con un semplice clic diciamo c'è un incastro per cui questo è un po' stato l'obiettivo e a livello di montaggio l'assemblaggio proprio delle varie parti è fatto un po' a incastro con dei rivetti insomma quindi comunque diciamo caso mai uno dovesse cambiare dei pezzi perché può succedere che si rompa così non c'è bisogno di ricomprare l'intera valigia si possono ordinare anche solo pezzi appunto sì volendo sì comunque diciamo ora alcune operazioni possono essere più complesse ma anche ritornando la valigia a noi diventa anche semplice sostituirle anche per noi perché non c'è colla non ci sono no pezzi per cui certo c'è c'è un limite a volte no però insomma tutto è stato fatto un po' in quest'ottica cercare di sostenere di fare sostenibilità di parlare di sostenibilità non solo per quanto riguarda il materiale di realizzazione ma anche proprio cercando di allungare il più possibile la vita del prodotto per cui che se è molto bello guarda ce n'è un grande bisogno oggi come oggi è importantissimo proprio perché i prodotti devono essere di qualità ecco tu dicevi oltretutto siete riusciti a mantenere sotto la tua guida la possibilità di un prezzo competitivo e quindi di non entrare nella fascia appunto del lusso ma di poter permettere a chiunque quindi è proprio il vero concetto di sostenibilità sostenibilità deve essere alla portata di tutti perché se tante persone usano dei prodotti come il tuo allora si va a migliorare consistentemente quello che è il il mondo in cui viviamo se c'è una minuscolissima parte dei grandi ricchi del mondo che hanno il prodotto super sostenibile ce ne facciamo poco a livello di vera sostenibilità e diciamo il prezzo è abbastanza in linea con i prezzi medio medi di mercato certamente leggermente un po più alto perché facendolo in italia non più di tanto non possiamo ridurre anche perché comunque ci sono dei costi però viene anche compensato dal fatto che se una valigia ipotizziamo una vita media di due anni ora faccio un'ipotesi questa una vita media di 6 7 e quindi anche l'ammortamento diciamo fra virgolette del costo ma poi soprattutto quello che si diceva prima mi si rompe una rotellina butto la valigia mi si rompe la rotellina ho ancora la valigia quindi con un investimento minimo quindi immagino non sia stata facile non sia stata facile in italia è uno studio molto approfondito devo dire che in questo in questo progetto ho avuto molto vantaggio per il fatto che ho partecipato proprio in seguito al brevetto insomma ai disegni o modello che ho depositato a dei bandi del mese del ministero allo sviluppo quindi sono riuscita a ottenere dei finanziamenti per poter sviluppare gli stampi e tutte le cose quindi insomma diciamo questo questo è stato un bel vantaggio che mi ha dato. Senti Chiara ma tu prima mi prima che facessimo parte l'intervista mi raccontavi delle due tipologie di valigie che eh state realizzando e soprattutto poi del riconoscimento avete avuto anche un riconoscimento rispetto al vostro lavoro raccontami un attimo in particolare queste cose. Sì allora come dicevo Zoombags nasce dalla riduzione dall'idea di ridurre la valigia quando l'ingombro della valigia quando non viene utilizzata. Il secondo progetto che uscirà infatti è una valigia ripiegabile rigida e ripiegabile che riduce il suo ingombro del 70 per cento per essere poi riposta in spazi anche molto stretti. Questo è proprio l'oggetto di un brevetto di invenzione e adesso sarà grata mia moglie. Non solo penso e diciamo siamo arrivati al al prototipo eh dobbiamo appunto svilupparlo successivamente e poi invece per quanto riguarda i riconoscimenti la valigia pop up è il prima la prima valigia di gomma infrangibile made in Italy in gomma riciclata da scarte di sole da scarpe è stata ehm selezionata a di design inded eh e partecipa parteciperà al compasso d'oro duemila ventiquattro che è un premio internazionale di design italiano ed è anche finalista all'IF design che si svolge in Germania. Senti io mi rendo conto cioè un progetto come il tuo è un progetto molto importante perché è una rappresentazione concreta di come andare a migliorare il mondo. Ovviamente uno degli aspetti più impegnativi sarà comunicarlo e riuscire a farlo arrivare in maniera efficace proprio perché l'ostacolo è quando la gente lo conosce sicuramente si interessa anche perché il concetto di avere un prezzo vicino allo standard di mercato per un prodotto che di standard di mercato è molto più alto può attrarre molte persone. La difficoltà è farglielo sapere. Ti ha aiutato la Call for Craft tutto il percorso che hai fatto proprio per migliorare questo aspetto qui e arrivare a più persone cioè integrare meglio quella che è la la narrazione del tuo prodotto e quindi anche l'efficacia e l'efficienza della proposta di mercato. Sì allora sicuramente il percorso che ho fatto insieme al MIP è stato fondamentale per entrare diciamo più in contatto e conoscere meglio quali sono gli strumenti proprio di divulgazione che oggi si parla di social oltre che il sito e-commerce. Certamente mi rendo conto che la mia preparazione, ognuno ha il suo lavoro per cui la mia preparazione è semplicemente di una conoscenza e deve essere così di una conoscenza un pochino diciamo superficiale anche se ora io mi do da fare faccio tutti i video, le posto, faccio i post no? Però per avere uno sviluppo del brand che sia un brand perché poi ora Zoombex è proprio un marchio registrato a livello europeo per cui diciamo siamo un po' oltre anche il semplice artigianato, il semplice no, volevo dire non semplice. Artigianato evoluto mi sembra, esatto. È un artigianato un po' che sta diventando forse un pochino più strutturato, industriale, esatto. Infatti ora tra pochissimo si trasformerà proprio in startup innovativa quindi diciamo si sta crescendo anche con una socia che si è affiancata a me proprio per l'ottica di sviluppare il marchio. Certamente questo percorso che abbiamo fatto col MIP è stato fondamentale perché oltre alla qualità diciamo degli incontri abbiamo avuto con i vari professionisti bravissimi e molto disponibili tutti e questo lo dico non perché siamo ora qui ma perché veramente... Te l'avevo chiesto prima proprio per prepararci. No no è stato veramente così io con alcuni di loro. Mi fa molto piacere. Li ho anche incontrati successivamente proprio per delle consulenze e poi vediamo se potremmo partire anche con delle collaborazioni però sicuramente diciamo... Ti hanno aiutato a fare il passaggio. Sì poi soprattutto anche conoscere e potersi relazionare con un'eventuale agenzia di comunicazione che magari seguirà più la strategia di sviluppo del marchio e poi anche quello che riguarda appunto la comunicazione eh il progetto strategico eh avevo bisogno proprio di essere un po' formata no perché sennò chiaro eh senza questa formazione eh che ho che appunto ho fatto seguendo le lezioni non avrei potuto diciamo nemmeno colloquiare con un'eventuale agenzia no perché è molto assolutamente è molto interessante quello che dici anche perché mostra un altro degli aspetti eh che è importante a livello imprenditoriale quindi appigianato inteso come impresa che il fatto è che è importante studiare queste cose fare percorsi come quelle della Call for Craft non necessariamente per essere il proprio social media manager ma anche per relazionarsi avendo sapendo nel momento in cui vai a parlare con persone che hanno una competenza più verticale sui social media il marketing e quant'altro cosa chiedergli e anche poter valutare il risultato delle loro azioni perché eh senti una domanda invece ti volevo fare stiamo dando in chiusura per invece entrare in contatto con te per acquistare i tuoi prodotti dove ti troviamo appunto c'è uno showroom fisico si svolge tutto online come funziona raccontaci un attimo allora eh abbiamo un un sito e-commerce eh che è www.zoombags.it questo è il nostro sito poi però eh la sede fisica io ehm ce l'ho a Scandicci presso Zero Lab che è un co-working artigiano in via Isaac Newton 104 e qui c'è un picco una piccola esposizione dei prodotti dove e e anche qui si possono acquistare volendo oppure online e poi seguendoci sulle pagine social dove di tanto in tanto facciamo anche poi delle delle promozioni per dare un po' di spinta al marchio assolutamente sì che dire ti ringrazio molto sono veramente dicevi abbiamo anche no ora ci stiamo appunto muovendo anche per fare delle fiere perché ci siamo accorti che l'online solamente non basta per un prodotto come questo e quindi ora eh la prossima in vista sarà eh forse Milano ma quasi sicuramente Pitti eh a giugno assolutamente e allora informateci quando sarete a Pitti che vi veniamo a trovare assolutamente e inviterei tutti a a vedere il tuo sito quindi a incominciare a capire come il mondo delle valigie può essere innovato e essere sostenibile e chi è in zona anche a venirti a trovare ti ringrazio è stato un vero piacere anche perché il mondo del viaggio e delle valigie è una cosa che in questo momento stavo affrontando personalmente e mi hai aperto nuove opportunità e mi fa molto piacere io io vengo a trovarti va bene ti aspetta allora grazie Chiara è stato un piacere ciao grazie ciao